Restano Sardegna e Sicilia le due regioni con il tasso di occupazione delle terapie intensive più alto in Italia rispettivamente al 10 al 9 per cento e quanto risulta dai dati a Genas aggiornati a ieri le due regioni hanno anche l'incidenza più alta in Italia pari al 147,93 140,16 per 100.000 abitanti. Per quanto riguarda i reparti ordinarie ancora la Sicilia ad avere la percentuale più alta con il 15 per cento seguita dalla Calabria con il 13, Basilicata con il 9 dalla Sardegna con l'8 per cento.